Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Silvio in questo nuovo video di Minecraft della Sky Factory 4 Bene, cosa ho fatto? Mi serviva la pelle per fare la backpack, allora ho visto come potevo fare e mi aveva consigliato di fare questo macchinario che è facile o facile da fare, avevamo già tutto il pistone l'abbiamo visto, l'ho fatto, l'ho provato e ho toccato il video ho visto che ci sono i potenziali metri che era quello che chiedeva la quest qua, quindi io li farei, insomma sono qua, questi sono della meccanism, sono quasi quasi sicuro sì c'è scritto meccanism, invece questi qui sono della nuclear craft quindi questa qui, adesso noi prendiamo la nuclear craft, andiamo a fare nuclear craft che è tanta roba, per me si fa reattore nucleare, inattore nucleare ecco lì qua, c'è questo qua e questo qua, come si fanno la crushed quartz, la crushed obsidiana che ne abbiamo, che ci escono delle orecchie, adesso andiamo a farla, finalmente possiamo usare un po' di ossidiana, che l'ho fatto sciacca e non sapevo di buttarla allora, adesso obsidiana, la prendiamo un po' e poi soprattutto questi qua li volevo utilizzare qua, perché finalmente possiamo fare il backpack, ho messo tutto, le fence le ho fatte, questi li ho presi, questi ne volevo le 36, ma insomma va bene lo stesso, facciamola, rossa, vabbè, forse devo far così, ho fatto la caccata vero, ho fatto la caccata, ho fatto una caccata, non so cos'è la UE, però forse era il colore UE, vabbè comunque è un colore di, va bene lo stesso, abbiamo uno spazio infinito, dimmi che è un bubble, sì, però anche se lo fosse, come cazzo me lo apro dopo, mamma mia che razza di roba esageratica, abbiamo proprio lo spazio per fare tanta roba, adesso immite anche questo, vado in crash, sono contento, sono cose che mi rendono felice, almeno abbiamo finalmente un po' di spazio, non sapevo buttare la roba e quindi che questa è fatta, poi facciamo i potenziamenti che mi sono dimenticato con la crash, quindi la frantumiamo, i coglioni ci frantumiamo perché l'ho messo qua dentro, e insomma sono proprio così, non ci facciamo niente, vai, frantumami tutto, devo prendere, devo fare il wifi, lo dico sempre, mi scordo sempre, ci devo informare bene, se no faccio un'altra pirata, è delle mie, insomma è così, devo fare la quarto, quindi quarto, ne abbiamo parecchio, frantumiamoci i coglioni anche con questo, ma non si può vedere di sto colore, sta borsa, porca miseria, vabbè, ok, aspettiamo che, ah dobbiamo fare i potenziali anche qua, ovviamente, intanto io ci guarderei, scusate, qua, 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 erano qua, i potenziamenti della mechanism, così almeno dobbiamo fare anche quelli, sono gota for a fast, intanto che io invando mechanism, se no ci mettiamo tutta la vita e anche oltre a fare ste cose, il potenziamento basilarico è questo, ah, e poi c'è quello delle energie e di tante altre cose che bisogna farli, però, allora, penso si va da un grasso normalo, poi questa ci va l'arricciata con questa che l'ho già fatta e mi ci vuole un po' di quello, io avevo messo, da qualche parte, però non ricordo dove, ma come si fa, è sempre così, non lo so, guardate, è proprio incredibile questa cosa, allora, devo arricciare, oh la glotton, devo, oh grazie, devo arricciare sto coso, però cambia 10 metto con questo, devo arricciare la cosa, vabbè, comunque un po' qua ce l'ho, sì, e devo fare col ferro, ferro, un po' ne abbiamo, non è tanto, però, ma almeno lo uso, siamo a posto, vai, arricciami tutto, va sto coso, no, frutto allurgico, infusero, vai, così almeno facciamo anche potenzialmente lo dobbiamo fare, ok, la polvere, io penso che basti, e andiamo di questo, che ovviamente non mi fa fare, perché io sono un pirla, lo sanno tutti, però, insomma, dove cacchio era il lato di potenziamento, questo, quarted, frantumatore, dove l'ho messo? Ah, arricciamento, frantumatore qua, scusate, ho fatto una mia solita cacata, e io quindi, al polvere di sidiana, spero sia fosse quella, dov'è, qua, sidiana polverizzata, caccia di obsidia, proprio di sidiana, ok, e qui dici, ma una pedana così, ok, tutto chiaro, tutto chiaro, dai, ce la facciamo, due di oro, ovviamente ne ho uno qua, bene, uno qua, uno qua, e abbiamo fatto anche questo, andiamo a farlo, e così un potenziamento lo possiamo fare, evidentemente era questo, mi manca la cosa che è qua, scusate, ormai non ci sono più con la vita, quattro, andiamo a fare quello che manca, che non ce l'abbiamo qua, e siamo a posto, vai grazie, fammi questo a sto punto, vai così, perfetto, e questo glielo possiamo mettere, poi l'altro era così, e forse ce la possiamo fare, senza forse, quindi facciamo così, facciamo così, perfetto, facciamo così, e dovremmo esserci, e anche questa è andata, ah, adesso è un contento, dai, sono cose che fanno piacere, quindi se noi andiamo a vedere qua, lui dice, oi, ciao, bello slush, l'hai fatto il potenzial Mont, meno malo, eh, perché insomma mi preoccupavo, ecco qua, e adesso dovrebbe andare più veloce, eh, quanti ne posso mettere di questi? Secondo me sono staccati, non lo so, eh, dovrebbe essere scritto, non c'è scritto un cazzo, quindi vabbè, adesso facciamo così, allora questo basta, perché ne fate già troppi, e poi, a vedere quanto consuma, dobbiamo fare questi qua, eh, togliamo questo, togliamo questo, mettiamo questo, questo qua dovrebbe aver fatto qualcosa, perfetto, e manca l'osbio in polvere, l'osbio in polvere, adesso prendiamo l'osbio, lo polverizziamo, e siamo tutti contenti, perfettico, ecco qui, uno solo, non c'era troppo, vabbè, andate così, che ci volete fare, andiamo a usarlo, lo sfrantumiamo, camera di ciamento, inferiore dell'allurgico, sfrantumatore dei coglioni, eccolo qua, sfrantumamelo tutto, così almeno siamo a posto, e possiamo fare anche questo, così, anche questa, questa è fatta, beh dai, sono contento, mi ha fatto un sacco, dopo devo fare anche gli altri, che si fanno in fretta, eh, non è che è difficile, eh, però guardavo che questo qui possiamo finalmente farlo, craft ender punch, possiamo fare anche questo, cioè, possiamo fare tanto e andare tanto avanti, questo che cazzo è, craft hit, inventori upgrade from cyclic, eh, questo devo guardarci, perché non ho idea di come questo lo so fare, dai, un po' di cose le possiamo fare, così almeno andiamo avanti, perché ce l'avevamo nato confermati, benissimo, ecco, vai, ottimo, me l'hai segnata, sei stato tanto bravo, adesso facciamo l'incantamento, l'incantamento, tavolo di incantamento in italiano non mi ricordo più, tavolo, sì, l'incantamento con questo qua che dovrei avere, perfetto, e facciamo questo qua, ottimo, e anche questa è fatta, poi, cosa abbiamo? Abbiamo, eh, no, ah, è questo, questo è qui, bene, devo prendere l'oro, quindi andiamo un attimo qua, con l'oro, quindi ho fatte due, ma non basta, e quindi prendiamo l'oro, l'oro o l'oro? Non ho mica capito, allora, vediamo un po' di togliere questo, perché adesso basta, hai tutti i coglioni, e questo, ok, mettiamoci l'oro, e facciamo quello che dobbiamo fare, siamo vuoti, sono contento, adesso questo è per il momento qua, c'è tanto di quella roba qua, poi devo fare quel bacchinato, devo fare un sacco di cose, eh, veramente tante, allora, questo lo togliamo, mettiamo qua, questo ammai ha fatto, benissimo, erano 4, 5, adesso non ricordo, comunque dovrebbero bastare 4, uno l'avevamo già fatto, adesso ne faccio un altro per sicurezza, e dobbiamo prendere solo l'ossidiana che abbiamo qua, e siamo a posto, vai, ok, possiamo farlo, eh, i vari cosi che servono qua con l'ossidiana, infatti, possiamo fare già così, siamo a posto, perfetto, dovrebbe essere 4, adesso non mi ricordo, eh, è difficile ricordarsi cose fatte 4 anni fa, 3 anni fa mai, però ci provo, eh, vediamo un po', eh, di qua, il piccone, adesso dove cazzo l'ho messo, dovrebbe essere di qua, perché non l'ho usato, perché effettivamente volevo farlo diverso, volevo fare una roba esagerata, però non ho trovato, ah, di una cosa che volevo dire di questa, che si possono mettere fino a 9 stack, mi sembra di, di roba da bruciare, quindi è una cosa molto positiva, è una cosa da buttare proprio di bidono, eccolo qua, facciamo l'unbreakable, così siamo a posto, non dobbiamo preoccuparci più di nulla, così questa quest è fatta, quindi facciamo così, danni per colpo, level stone, mini speed, non mi dici quanto è arrivato, eh, me lo ricordo male, però mi ricordo abbastanza bene che me lo diceva che era indistruttibile, durabilità ce l'ha, quindi, eh, però non mi dice un cazzo, una volta, mi ricordo, forse qua, eh, perché devo farlo a livello più alto, che palle, vabbè, adesso lo rifaccio da capo, perché questo è troppo basso per le modifiche, e ci vediamo frappè, allora lo rifaccio, ho fatto un po' di ossidiana, voglio fare questo qua, qua, che dovrebbe avere più modifiche, eh, più modifiche, poi il pezzo questo va in legno, che ovviamente legno io non ho, perché insomma, legno mi sembra che sia Ecologic, Ecologic da modifichere in più, adesso, eh, adesso ricordarsi, purtroppo ragazzi è passato un po' di tempo, abbiate venia, è passato un po' tanto tempo, ma che cazzo mi apri, mi apri quello, mi apri, perché sei infame, però, eh, prendiamo uno di questi, adesso poi vediamo, adesso non mi ricordo mai, eh, come si faccia, vediamo un po', eh, ok, perfetto, poi, eh, abbiamo, questo lo buttiamo, che non ci serve a niente, ovviamente adesso non posso farlo, eh, la pezzo sotto, il pezzo sotto qua, si faceva, posso farlo con questo, eh, però vedete che, allora, durabilità, non mi dici, eh, quanti modifiche ha, io me lo ricordo in modo diverso, eh, devo ammettermelo, attacco, modifiche 1, vedete, qui dice 1, qui modifiche 0,9, quindi forse è meglio 1, forse con questo, modifica 1, speriamo che ci siano abbastanza modifiche, modifica 1, modifica 1, perché non me lo ricordo proprio per un cazzo, e quindi dovete avere tanta pazienza, dovrebbe poter essere meglio così, quindi adesso se io facessi così, e così, e, eh, diamo, è finito, eh, dammelo, così, dice, in forza a 20%, ok, vedete che me lo dice qua, boi, io non capisco, 40%, non ce la faccio, non ho abbastanza modifiche, devo farlo livellare, è una bella palla questa, ve lo garantisco, non me lo aspettavo, che debba farlo livellare, sicuramente c'è un modo per fare un livello più alto, ma non me lo ricordo più, abbiate pazienza, è passato un po' di tempo, in questo momento non ricordo qual è per fare una modifica aggiuntiva, lo faccio livellare, faccio prima, vedete, è 60%, quindi altri due, devo farlo livellare di altri due, vabbè, ci vediamo fra poco. Ecco qua, vi spiego cosa ho fatto, ho creato questo, che era anche una quest, si faceva in modo facile, l'ho caricato, qui ho dovuto modificare perché non mi usciva da questa batteria, non mi usciva l'energia, allora ho fatto l'extractor e l'estratore, quindi il cavo normale va a mettere dentro e l'estratore va a togliere, adesso ho modificato un po', ma dopo chiuderò, quindi non si vedrà niente, e niente, ho fatto con questo build gadget, così, vedete, facevo crescere e crescere, insomma, scusare in fretta, poi facevo così, piano piano, piano piano, ogni pezzo mi dà uno, ho fatto già 80, come vedete, non poco, e quindi almeno possiamo, abbiamo livellato e non dovremmo avere problemi eccessivi, adesso facciamo così, così almeno facciamo un altro po' con l'ossidiana che vado a prendere, almeno così, se no ci metterete la vita e l'esistenza mondiale, alo, perché qui insomma, anzi l'ossidiana dovrebbe avere la qua, così almeno c'è un apostolo, se no qua, sicuramente c'è la sharp net kit, mi sembra, non mi ricordo, probabilmente quello dava uno in più, però non mi ricordo, quindi se non mi ricordo, mi ricordo, questo, benissimo, 80, quindi ci manca un modificatore, che per il momento non possiamo fare, perché i modificatori rimasti non ce ne sono, però siamo già 80, al prossimo livello abbiamo fatto anche questa, abbiamo fatto anche la quella, adesso contento, ho fatto diverse cose in questi episodi, sono contento, siamo andati avanti, poi faremo, questo non so che cazzo è, ah, per quello che ho fatto adesso, volevo vedere questo qui, craft a ender punch, intanto che mi divertirò a far salire il coso, facciamo ender punch, è una borsetta, ender punch, 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 insomma è una borsetta di semi, che cazzo è, dove è l'ender, me la ricordo diversa, no, ender bug, ender punch, ho letto malo, può darsi che abbia letto malo, po' ucch, scrive, scusate, e non si chiama così, si chiama tutto attaccato, non so come cazzo la si chiama, fatemi rivedere, magari ho letto malo, può succedere, ti trovo, eccola qua, craft a ender punch, add left shift tasto destro, su l'ender chest, tu connettila, ok, vabbè, dopo la faccio, craft a ender glitch infuse d'armo, eh, questa è un'altra cosa da fare, craft e mangia sickly hurt, devo craftare e mangiare un sickly hurt, che cazzo vuol dire? Ma porca vacca, eh, ma porca miserica, devo fare un sacco di roba per fare questa roba, ma lo faremo un'altra volta, ci mette tutta l'esistenza, non serve immaginabile, craft e mangia crafting upgrade from cyclic, che cazzo è il crafting upgrade? Crafting, è questo, ma insomma, ma mi chiedi parecchio, ce li ho un po' di cose, ma insomma altre devo farle, e quindi, e sono questo un po' lunghe da fare tutto qua, non è che sono difficili, cosa vuoi questo, craft a warding gadget to chunk load, oh, chunk load, weirdly, ok, weirdly, andiamo un po', filtro dentro, ve l'avevo detto nei primi episodi che dovrebbero esserci sicuramente, eh, qualcosa del genere, perché non c'era il chunk load qui, eh, vediamo un po', wardler, come cazzo era, si chiamola, mi sono già dimenticato, ma sempre si, weirdly, che cazzo si scrive, weirdly, distributore di energia, ho letto malo, weirdly, ma insomma non ci siamo, non ci siamo, eccolo qua, l'ho trovato, beh questo è facile da fare, a meno lo possiamo fare, perché ci stavo preoccupando, tutte le robe, queste cose qui strane, andiamo a vedere di farli, siamo a posto, poi, andiamo un po', basta fare così, uno qua, e dovrei aver tutto, mi mancano due lingotti, e due cubi di Energon, lì, dove cazzo si chiamano, di Cybertron, lì, come si chiamano queste cose qua, della cosa del coso, eccolo qua, posso, devo prenderli, li facciamo, quindi posso chunk load, non mi dovrebbe esplodere la nave, la barca, la base, oh santa, bisogna farne uno solo, non me lo ricordo più, sapete, ci accogliandiamo da sotto, che tanto c'è spazio, nessuno rompe, però sta crescendo, cosa carina, ok, però, chunk load, da 5x5 ar, basta, c'è quanti ne devo mettere di sti bochini qua, per fare una roba del giganto, qua, 5x5 è una caccata a Tommy, giusto per il spawner, va bene questa, pensavo fosse una cosa, tipo una vecchia moda di una volta della 1.10, ma non è, non è paragonabile, cosa c'è, storage wars, craft e mangia, inventory upgrade, inventory upgrade, inventory, ma insomma, mi vuoi sempre tutte queste cose, adesso la faremo, per carità, perché la faremo, però, c'è un po' stronzo, vabbè, che caso ho visto, ah no, ho sbagliato, e niente, a questo punto, a questo punto, queste cose me le faccio con calma, tanto non c'è molto da fare, questo devo capire cos'è, che non ho mica capito, cosa mi manica, il matto, che poi faremo, dei sapling, questo animal crop, me ne mancano un po' di io ancora, mamma mia, animal crop, devo fare tutti, il parrot, sì, devo andare dal vendor qui, vabbè, dopo ci andremo, faremo, packet control, cazzo, use auto packet, level update, cazzo, sì, tutte cacate sono, però, niente di veramente così, come posso dire, di avere buono, vediamo un po' la builder, che è questa, che questa si fa bene, andiamo un po', vai, questa è l'exchange gadget, connette su face, range 1, va bene, fatta, perfetto, abbiamo fatto anche questa, non me la ricordo come funziona, e c'è il tool, è un, dell'exchanger, c'è l'exchanger? oh, c'è l'exchanger, mi piaceva, era bello bello, copy paste, l'exchanger c'è, fatemi vedere, exchanger, no, per me lo modifica, può darsi, perché io l'exchanger me lo ricordo in modo diverso, l'exchanger tool, verrà facilmente svuappato i blocchi, ah, ok, trasforma questo in questo, se non ho capito malo, però non so come, spero me lo dica, vabbè, poi mi informerò, perché non ne ho proprio idea di come si faccia, non ho idea, mi dovrò informare, scusate, ma purtroppo molte cose non le conosco, e ci vuole pazienza, o direttamente questa è, può darsi che sia questo l'exchanger, adesso lo proviamo a caricare, sì, sì, è questa, è questa, me la ricordavo diversa, scusate, quindi la carichiamo un attico, la mettiamo qua, si carica già, ha ciucciato, da panico proprio ha ciucciato, quindi l'exchanger, se io volessi, ad esempio, far così, e io facessi così, così, lo me la sciangia, che ficata, mi è piaciuto, dai, è una cosa carina, dai, l'exchanger è una cosa bella, quindi se io facessi così, poi facessi così, poi facessi così, no, scusate, così, no, così, e così, non mi ricordo come si usa, come si usa, vabbè, dopo ci guarderò, scusate se ho perso tempo, però mi interessava, è carina sta cosa, sta funzionalità, e quindi sì, vabbè ragazzi, direi che ci possiamo anche fermare qua, che questo video è tutto, io, come al solito, vi invito a lasciare un like, e un commento, se vi piace la serie, e farmi appunto sapere cosa ne pensate, però adesso, vi saluto da Siva, ciao, ciao!